Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto con me a casa a scoprire il mio sito neurologico. L'abbiamo appena visitato, questa è una chiesa paleocristiana che c'è all'inizio del percorso e che poi porta in cima. Il biglietto costa 9 euro e prevede anche l'ingresso al museo di Cabras per vedere giganti di monogramma. E niente, seguite poi il video. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!